Luca Ceccarelli Il titolo è molto generico, Linux è il giornalismo, forse non rende l'idea di quello che vorremmo fare oggi, per cui brevemente, noi abbiamo pensato di fare un intervento che durasse circa due ore, ma vedremo ora se riusciamo a comprimere un pochino i tempi, ma che non fosse un sermone di due ore, perché ci siamo messi anche nei vostri panni, sinceramente. Allora abbiamo cercato di dividere le due ore in circa quattro parti, che fossero abbastanza snelle, più o meno mezz'ora l'una, che toccassero quattro punti che noi crediamo importanti, se si parla di Linux e giornalismo, e quindi il tentativo è quello di fare una cosa che abbia una dinamica abbastanza serrata, in modo da non distruggervi il pol dopopasto, ma cercando di darvi una panoramica su alcuni argomenti che credo al mondo del giornalismo possano interessare. Prima di parlare appunto di applicazioni, di possibilità che Linux e il software libero danno, io procederei un attimo a vedere cos'è il software libero, cosa di cui molto si parla, ma che spesso poco si conosce. Si vede bene? Perché la superficie è un po' piccolina, non so se si legge bene, ma... Allora, partiamo dalla definizione del software libero. Software libero è un software che contiene quattro libertà fondamentali, quindi quando si parla di software libero si parla di libertà. Voi sapete che gli informatici sono gente strana, lo sappiamo tutti, e gli informatici quando programmano non contano mai da uno a quattro, ma contano da zero in poi, per cui quando sono andati a denunciare le libertà del software libero, si parte con la libertà zero. La libertà zero è la libertà di eseguire il programma per ogni utilizzo. Questo è qualcosa che probabilmente anche chi non usa Linux conosce, per capirsi, molti dei freeware, quando io scarico un freeware mi dice usalo come vuoi, quindi probabilmente la libertà zero è qualcosa che si conosce sempre. Libertà uno, libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie esigenze. Questo è già qualcosa che normalmente non abbiamo, se voi scaricate un freeware o un qualunque programma... Sì, diamoci del tu prima cosa. Questi slide le troviamo in rete? No, perché le ho fatte io, quindi non sono disponibili, ma naturalmente possiamo dare... Ma certamente. Ok. No, aspetta, si parla di software libero e poi dico no, le slide sono miei, non me ne tocca nessuno. Sì, sì, chiaramente sì. La libertà uno, dicevo, è la libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie esigenze. Questo è qualcosa a cui non siamo proprio abituati. Se pensate, scaricate un freeware qualunque, programma gratuito, potete usarlo come volete, ma se dite fammi vedere come è fatto il programma perché voglio farci qualche modifica, magari il programmatore ha qualcosa da dire, ce l'ha. La libertà due è la libertà di ridistribuire copie così da poter aiutare il tuo vicino. Questo è un concetto cardineo. Il software libero nasce dalla collaborazione e dalla possibilità di aiutare chi ci sta accanto. Questa è un'altra cosa a cui non siamo abituati. Vi ricordate il famoso spot, ruberesti mai una macchina, ruberesti mai... Beh, allora non rubare nemmeno le cose protette dal copyright perché sei un ladro e un assassino. Il software libero parte esattamente dal contrario. Cioè il software libero parte dall'idea che copiare e dare copie in giro è fare del bene. Quindi, per esempio, se io prendo un cd di una distribuzione Linux e ve lo do, non solo sto facendo una cosa perfettamente legale, ma sto facendo qualcosa che è incoraggiato dalla filosofia del software libero. L'esempio che viene fatto sempre è quello delle ricette di cucina. Le ricette di cucina ce le scambiamo liberamente e nessuno ci dice niente, eppure per tutto il resto esiste una legge che dice che non possiamo farlo. La libertà 3 è quella di migliorare il programma e ridistribuire i miglioramenti pubblicamente. Che significa? Significa che io vedo come è fatto il programma, faccio le modifiche che voglio fare per farlo funzionare come voglio io, e poi lo ridistribuisco. Quindi, chiaramente, le libertà 1 e 3 hanno come prerequisito l'accesso al codice sorgente. Quindi, se non ho il codice sorgente del programma, non posso né studiarlo, né modificarlo, né distribuirlo. La definizione di free software. Free software dice free as in freedom, not as in beer. In che senso? Software libero, molti pensano, uguale, gratis. In realtà, come avete visto, si parla di libertà e non di prezzo, non di gratuità. Quindi, free come nella parola freedom, non free come una birra gratis. Questo è il concetto del software libero. Altro equivoco che vogliamo subito sfatare è questo. Spesso si parla indifferentemente di software libero e di open source. Cosa dicono quelli che sostengono l'open source? Dicono, se io ho l'accesso al codice sorgente e ho un milione, due milioni, tre milioni di persone che ci lavorano sopra, sicuramente verrà un bel prodotto. Quindi, collaborazione e disponibilità del codice sorgente significa uguale, ottimo prodotto. Questo è un beneficio pratico. Non contiene nessun assunto sulla libertà del software. Dice semplicemente che più si lavora, più siamo a lavorare sullo stesso codice sorgente, meglio si fa. Per dimostrare questa cosa, prendiamo un software proprietario, quindi chiuso, dove non c'è codice sorgente disponibile, e lo diamo in mano a un sostenitore dell'open source e un sostenitore del software libero. Il sostenitore dell'open source dice, beh, questo programma proprietario funziona bene, non mi aspettavo che una software house che magari avrà mille programmatori facesse un prodotto così bello, però funziona bene, lo uso. Il sostenitore del software libero, invece, dice no. Dice io, per me è più importante l'aspetto della libertà del software, per cui se non è libero può funzionare bene, quanto ti pare, preferisco un'alternativa libera. Ok, questo è per chiarire la differenza tra software libero e open source. Open source è un discorso puramente tecnico, o software libero è un discorso filosofico, di libertà del software. Quindi, la cosa fondamentale appunto è che il primo, quello dell'open source abbandona la propria libertà, se gli si offre comodità in cambio, il sostenitore del software libero mette la libertà al centro e quindi rifiuta la comodità in cambio della libertà. Molti pensano che i software liberi siano software un po' per gente strana, ma questi programmi strani che usa sta gente, che usa il software libero. In realtà, come vedete, vi ho fatto tre esempi. Firefox, che probabilmente conoscete tutti, il programma con cui si va, uno dei browser più usati su internet, è il software libero. Open office, ora LibreOffice, che è la suite office gratuita e libera, è un software libero. L'ultimo probabilmente non lo conoscete, che è il server web Apache. Il server web Apache occupa il 65% dei siti web. Quindi quando scrivete HTTP, www, qualcosa, avete sei possibilità e mezzo su dieci, che dietro ci sia un software libero, che si chiama Apache, che vi serve le pagine che state vedendo. Per darvi un'idea, la cosa più difficile da fare quando si parla di software libero è, noi che ci occupiamo di software libero, la domanda ci fanno sempre è, sì, ma quanto è diffuso questo software libero? È una domanda di una difficoltà estrema, perché? Perché, come avete visto all'inizio, il software libero è fatto per circolare, ma se io do un CD a lui, non c'è niente che traccia questa transazione, che poi non è una transazione, è un passaggio gratis. Quindi, se io voglio sapere quante persone usano Windows, quante licenze hanno venduto di Windows? Dieci milioni. Dieci milioni di persone usano Windows. Se io passo dieci milioni di CD, nessuno lo sa. Allora, ogni tanto vengono usati degli strumenti per misurare l'efficacia del software libero. Uno di questi è stato, nel 2008, 17 giugno, il Firefox Download Day, ovvero, Firefox aveva rilasciato una nuova versione e ha messo la nuova versione disponibile esclusivamente su una particolare pagina web. Dicendo, a questo punto siamo in grado di dare un dato misurabile di quante persone lo usano, perché dovevano scaricarlo tutti da lì. E in effetti, in un giorno ci sono stati 8 milioni di download. E questo dà un'idea, effettivamente, delle dimensioni anche del fenomeno software libero. Altri esempi di software libero, ora si vede male con contrasto colori, Java, che probabilmente tutti conoscete, Google Chrome, lo vedete questo simbolo sotto? Questo simbolo sotto è un pochino simile a quello sopra, appena appena. Questo sotto è un software libero che si chiama Chromium. È un browser, software libero, dal quale Google ha praticamente fatto due modifichette al volo, ha aggiunto i colori nel logo e ci ha fatto Chrome. Quindi Google di fatto di Chrome ha scritto un pezzo. Android, probabilmente qualcuno in sala ce l'ha, la ragazza che sta scrivendo ha Android in mano. Questo è software libero. Tutto nasce da un progetto che si chiamava GNU. Vi ho già detto che gli informatici sono gente strana. Una cosa che amano gli informatici sono i cosiddetti acronimi ricorsivi. Acronimi che contengono l'acronimo stesso. Infatti GNU, sta per GNU is not UNIX, e qualcosa che nasce da un tizio, che lui è un po' frecchettone, se si vede già dalla foto, che si chiama Richard Stallman. Richard Stallman era un ricercatore all'MIT, che a un certo punto doveva utilizzare una stampante. Come ha sempre fatto fino a quel momento, considerate che era il 1983, tentò di contattare la digital che faceva quella stampante, scusate, la Xerox, che faceva quella stampante, e la Xerox gli disse cosa vuoi fare, perché ci stai contattando. Diceva, io vorrei semplicemente avere le specifiche di accesso alla stampante, così scrivo un programmino, e mi ci interfaccio come ho fatto fino a ieri. E lui dice, no, assolutamente, questo è software proprietario, te non puoi entrarci dentro, non ti daremo mai il codice sorgente della stampante. E da lì lui ha avuto l'intuizione della libertà del software. Ha detto, questo è proprio l'esempio di come non si fa. Io devo avere accesso a tutto quello che mi è necessario per far sì che la stampante faccia quello che voglio io. E da lì è nata appunto l'intuizione del software libero. Da qui poi è nata una licenza, che è quella che troverete nei principali programmi di software libero, che si chiama GNU General Public License, che è una licenza virale, ovvero se io prendo un prodotto che è protetto da GPL, qualunque derivata di quel prodotto rimane GPL. Questo per evitare naturalmente che magari c'è una comunità che fa un programma in GPL, arriva ad un'azienda, fa una modifica di una riga e diventa commerciale. Quindi è fatto apposta per essere viralmente libero. Se nasce libero e sotto GPL rimarrà libero in eterno. Esistono poi altre versioni, l'FDL che è fatta per la documentazione, la usa per esempio Wikipedia, e altre più limitate, le GPL e quant'altro. Linux, o meglio GNU Linux, in omaggio alla fondazione GNU, è un sistema operativo, vi risparmio la storia, probabilmente conoscete tutti, dello studente finlandese che ha fatto questo kernel che è il cuore del sistema operativo, che si chiamava Linux Torvalds, e quindi da Linux Torvalds è venuto fuori Linux. Naturalmente il sistema operativo è venuto fuori perché Linux Torvalds aveva scritto il cuore del sistema operativo, poi si è interfacciato con Stolman e insieme hanno prodotto il sistema operativo. Qui vi risparmio un po' di dettagli tecnici, insomma la cosa importante è appunto la liberalizzazione del prodotto, GNU Linux è un software libero che permette agli utenti di avere a disposizione un sistema operativo completamente funzionante slegato dalle classiche leggi commerciali. La cosa importante è questa, GNU Linux, proprio perché è un sistema operativo fatto componendo programmi e software liberi, viene realizzato in migliaia di versioni e ogni versione si chiama distribuzione. Queste versioni sono tutte diverse l'una dall'altra per un motivo, perché ognuna, diciamo, è orientata a un certo tipo di pubblico. Ne esiste, per esempio, alcune esistono per fare i router e i firewall di rete, altre esistono, come quella che stiamo usando noi, per un utilizzo casalingo, ci sono quelle per il multimediale, eccetera, eccetera. Ce ne sono migliaia. Questo è un sito che si chiama distrowatch.com distrowatch.com è il sito dove trovate tutte le distribuzioni di Linux e vi potete divertire a vedere quante ce ne sono, sono veramente migliaia. Noi usiamo per le nostre cose una distribuzione che si chiama Ubuntu, fra l'altro è carina anche la storia del termine. Ubuntu è una parola della lingua Zulu che significa semplicemente io sono in quanto condivido con gli altri. Quando si pensa di Zulu come popolazione arretrata, se diciamo che sei uno Zulu, in realtà pensate che loro hanno una parola che descrive un concetto che noi riusciamo a esprimere in 10-15 parole e questo dà l'idea anche della profondità di alcune culture che noi invece spesso dissacriamo e che hanno molto molto da insegnarci. Comunque, detto questo, Ubuntu è una distribuzione pensata appunto per l'uso casalingo, cioè sono tutte le cose che servono in un normale ufficio o in una casa privata, ha una frequenza di nuove versioni molto elevata, due all'anno, quella cosa che vedete lì 15.04 è la versione più recente che significa banalmente che è uscita nell'aprile del 2015. Ora a ottobre uscirà quella nuova, si chiamerà 15.10 perché è ottobre 2015. Qui c'era un logo di Ubuntu, lo giuro, ma con il contrasto dei colori non si vede. Se non ci sono domande su questa parte, io a questo punto vi darei un video, breve, 10 minuti, in cui è proprio Richard Stolman che ci racconta un po' di cose. È un TEDx che ha fatto a Ginevra. Freie software è la prima battle in la liberazione di cyberspace. Chi controla il tuo computer? È te? O è una grande company che è veramente controla? Cosa è un computer? È un computer che non può fare perché ci metà un programma che rispetto a chi lo scopo che lo scopo è che dunque che lo scopo è lo che rende All'altra che l'instruzione all'interazione e non le tracere e rende un altro e do'intero L'instraccia L'instraccia lo scopo è L'instraccia che le direi e lo scopo è che si fosti e non lo faccio. Beh, quasi niente. Quindi, chi ha gli instruccions a vostro computer? Puoi pensare che è obbligo i vostri instruccioni, quando, in realtà, è obbligo qualcuno prima, e tu, solo come la compagno che la compagno, con il software, ci sono due possibilità. Oltre i usi contro il program, o il programma contro i usi. È inevitabilmente uno o l'altro. In order for i usi controllo il programma, i usi necessitano le 4 essenziali freedoms. E questa è la definizione del software. Il software respecti i usi e la comunità. Ora, inoltre, usiamo il franzo o spagnolo, pronunce il come si piace, il punto è, non è gratis, non è pari, ma è concerned con il tuo frizzetto. E noi, sempre diciamo, frizzetto, 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 che non puoi capire. Alla cosa che hai fatto è l'executabile, è un pollo che è un pollo di farlo e anche più difficile da cambiare. Quindi, per te dare la possibilità di studiare e cambiare, hanno bisogno di dare il sostegno. È una requiera. Beh, con questi due libri, ogni user, separatamente, può fare una copia e cambiare, e può fare lo che vuole. È individuale controllo. Ma cosa se non è un programma? Si guardate il sostegno e non capisce il sostegno. Individuale controllo non è sufficiente. Abbiamo anche bisogno di collezionare controllo, che significa che ogni gruppo di user è free da lavorare, per adattare il programma a quello che vuole. In questi gruppi, alcuni sono i programmi. Sono i quelli che scrivano i cambiamenti, ma stanno facendo la parte del gruppo per quello che vuole. Of course, il gruppo non deve essere tutti. Ma tutti si possono sempre iniziare anche altre voze. Sono tutti free da fare. Quindi, Collective Control ha due altre più essenziali. 2 è il lunе la libertà di distribuire copie, quindi quindi di rendere copie e poi di vendere le semplici e poi di rendere. Direi i modifici di una propria modificazione. La libertà di rendere copie e poi di vendere le semplici o vendere in cuiに preferisco. Quindi, Quindi se ti ha queste freedomse, è il software free, i users controli il program. Ma se nessun free è missingo, i users non controllano il program, invece il program controllo i users. E il developer controllo il program. Quindi questo program è un instrumento di un'unità di potenza per il developer e per i users. That means the users don't have freedom. That's non-free proprietary software, which we've got to get rid of. Well, when you've got proprietary software, what happens? Sometimes the program snoops on the user. Sometimes it tracks the user. Sometimes it restricts the user and stops users from doing what they want to do. You can see that the blu-ray is your enemy. Sometimes the software remotely deletes books as Amazon did with 1984. Sometimes the developer compels users to install a harmful upgrade by threatening to take away other functionality if it's not installed, as Sony did. And sometimes they can even forcibly change the software at a distance as Microsoft can with Windows through the universal back door. So, sometimes they even sabotage users as Microsoft does when it tells the NSA about bugs in Windows so it can use them to attack people's computers. Well, what you get is basically with proprietary software, the owner has power over the users and takes advantage of this power putting in those various malicious functionalities to hurt the users. Of course, they don't do this because they're sadists. They're doing it just for money, for greed. They have various ways that they can profit from having this power over users, which does not make it even the tiniest bit less evil. But they have no shame about it. They have conferences where they talk about the latest ways they can take advantage of users through the power they have. Basically, proprietary software which is now from almost all the users of proprietary software, they're using proprietary malware. It's software for suckers. so how do you stop being the victim? Formerly, you had to stop using computers but not anymore. Now you can come join us in the free world that we've built. In 1983, I announced I would develop a completely free software operating system called GNU. In 1992, we had it almost finished but one piece was missing, the kernel. Linus Torvalds in that year freed his kernel Linux which filled the last gap and gave us the first complete system you could run on a PC, GNU plus Linux. So, unfortunately, having freedom at one point doesn't guarantee you'll keep it. There are over a thousand different variants of GNU slash Linux. They're called distributions. A few of them are entirely free software. most of them have non-free software added because they're maintained by people who aren't concerned about freedom. They'd rather add convenience but at the cost of freedom. So, you have to check which is a free distro. To keep your freedom sometimes requires a sacrifice. Sometimes a big sacrifice as at Lexington. sometimes, but in our campaign, they tend to be little sacrifices. Anybody with a little bit of maturity can make these sacrifices. For instance, you want applications but some of them are non-free. If you want freedom, you've got to do without them. So, there may be some inconveniences you have to suffer for your freedom's sake. Then, many websites send non-free programs written in JavaScript to the user's browser. If you don't want to run non-free programs, you should install Libra.js which blocks, keeps out non-free JavaScript. And sometimes, servers will offer to do your computing. They say, send us all your data, obviously for suckers. Then, the server does the computing and sends you back the results. But you're not supposed to think about what's happening because it's a cloud and you don't see what's going on. Well, you should look. It's service as a software substitute and it takes away control of your computing. So, a large fraction of the world's web servers are running GNU slash Linux and other free software. But I think the most important computers to put freedom in are your computers, not companies' web servers. They deserve freedom also. But above all, it's people that deserve freedom. So, we need to advance. And to do that, we have to cross obstacles. One of them is, there are big companies that make a lot of money by having control over users. And they don't want to let us advance. We have to overcome their opposition. Another is that the mainstream media don't talk about free software. They have a term that they use to bury these ethical issues. They say open source instead. Now, it talks about more or less the same programs but with different ideas where free software activists say, this is a matter of right and wrong. Users deserve freedom. We demand freedom. The people who say open source, they don't want to say that. So, instead they say, let the users change the software and redistribute it and they'll make the code better. They'll fix some bugs. It may be true, but it's a less important issue. If we want to keep our freedom, we've got to talk about freedom. So, say free software and you're helping us every time. Another obstacle is that lots of schools teach non-free software, which is basically like teaching the kids to smoke tobacco. It's implanting dependence, which is the opposite of what schools should do. A school should prepare citizens to live in a strong, capable, independent, cooperating and free society, which means teaching free software in the school. But there's another reason to do that for education. Some kids want to become programmers. They're curious. They want to know how the programs work. Well, the one who's studying a free software can understand it. The one who's studying a non-free program can't learn anything because the knowledge in the non-free program is withheld, denied to the students. So, to uphold the spirit of education, the school should make sure its programs are free. But there's an even more important reason. Schools should teach the spirit of goodwill, the habit of helping other people. So, the class should say, if you bring a program to class, just as if you bring cookies to class, you've got to share it with everyone else. You can't keep it to yourself. You've got to share the source code so other people can learn. So, don't bring any proprietary software to this class. The school has to set a good example by following its own rule. It should bring only free software to class, except as a reverse engineering exercise. Another obstacle is there's hardware we don't know how to write free software for because they won't tell us how to use the hardware. That's shocking. They want to sell you the product and they won't tell you how to use it. They say, here's a non-free program you can use. Run it and shut up. Don't bother us. Well, how do we find out how to run that hardware? With reverse engineering, you've got to study all those zeros and ones to figure out what they really do and write down how to use that hardware so someone else can write the free program to do it. It's hard work, but it can be done if you want to make a big technical contribution. That's what you should do. Each new area activity of life can bring with it new human rights that are necessary. And the human rights depend on each other. If you lose one, it becomes harder to maintain the others. So, nowadays, computing is so important in society that the freedoms of free software are among the human rights that society must establish and protect. Thus, how to help? Well, you can write free software. You can organize groups to campaign and persuade schools and governments to move to free software. You can help other people when they have trouble using free software or help them install it. You can say free software and spread the philosophical ideas. Moving to free software is the first step in the liberation of cyberspace. But, of course, we also use the Internet. We need other freedoms there, like network neutrality and putting an end to surveillance of people in general. Okay, now, here we have a great story. But, I have a question that we have to run into our heads. Yes, but what do we do? Yes, we have to do this. Yes, we have to do this. 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 Yes, we have to do this. Yes, we have to do this. What is a computer? A computer is a universe. No, not. No, no. You need to do this. Allora, sì, io sono un informatico, sono sviluppatore, un sistemista, lavoro per una società che fa servizi informatici per la pubblica amministrazione all'interno della provincia di Grosseto, quindi io vedo questo aspetto come un informatico. Ora vi volevo chiedere, ma qualcuno di voi ha mai usato Linux? Ora laggiù vedo due mele morsicate, quindi voi sicuramente non lo usate. Qualcuno, alzate la mano se qualcuno l'ha utilizzato. Vabbè, qualcuno c'è. Invece altri software, anche voi con la mia morsicata qualche software libero lo utilizzerete, non so, OpenOffice, LibreOffice, ma anche voi vi abbiamo beccato sul software libero. Ok, qualche programma, non so, ora voi siete giornalisti, quindi mi immagino, vabbè, navigate sul web, la posta, sicuramente programmi per scrivere, fogli di calcolo, fare presentazioni, qualcosa per la grafica lo utilizzate, non so, per mettere le immagini dal web o sul web, negli articoli, Gimp, eh, c'è qualcuno di voi che utilizza, Gimp, che l'ho utilizzato? Due? Tre? Quattro, ok. Vedete, quelli sono programmi che girano fra l'altro su tutte le piattaforme, perciò, diciamo che, lo potete, uno dei consigli che diamo noi, noi, questa cosa, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, ma insomma anche per aziende private, lo consigliamo, è quello, ecco, se non volete fare subito il salto per un sistema operativo libero, è quello di iniziare a utilizzare software libero, appunto, Gimp per la grafica potrebbe essere, insomma, a seconda delle vostre necessità, LibreOffice, eccetera, in modo che, una volta che i software sono gli stessi, li sapete usare, siete padroni proprio del loro funzionamento, a quel punto potete benissimo fare la migrazione completa all'utilizzo di un software libero. Ora, noi, chiaramente sul nostro computer abbiamo Linux, questo appunto è Ubuntu 15.04, tanto per chi non l'ha usato, per far vedere che, cioè, utilizzabile, non è, magari uno non l'ha mai visto funzionare, dice, ma sarà complicatissimo, non ci saranno le cartelle, non ci sarà il browser, sarà complicato. Avete visto, ho cliccato un'icona e l'ho lanciato. Questa distribuzione di default monta questa interfaccia grafica dove, vedete, c'è una barra sulla sinistra, un pulsante in alto nella barra dove può essere configurato, possono venire suddivisi per categorie tutte le applicazioni, un po' come i pulsanti che ci sono negli altri sistemi operativi, il funzionamento è molto simile. Ok, possiamo, per chi non l'ha usato, sfogliare il file system, le cartelle. Ok. Può essere leggermente diversa la struttura, ma utilizzandola vi renderete conto che è una struttura molto pratica da utilizzare e soprattutto molto portata alla sicurezza dei vari utenti che la utilizzano. Vi volevo dire anche una cosa che, beh, non siamo solo noi due o qualche di un altro, insomma, qualcuno della nostra comunità o The Free Software o Linux User Group che utilizzano software libero. Volevo farvi vedere, ecco, noi veniamo dal Grosseto, questo è, non so se l'avete mai visto, è un attestato online, la principale della nostra città, quindi faccio anche un po' di pubblicità ai nostri compaesani. Ecco, vi volevo far vedere un articolo che curiamo con la nostra, una rubrica, cioè che curiamo con la nostra associazione, ad esempio, che questo è uscito proprio ieri, il numero, parla proprio di quello che sta succedendo in Italia, ma in tutta Europa e nel mondo. Per esempio, il Ministero della Difesa da pochi giorni ha fatto questa scelta, ha scelto di passare al software libero e ha scelto di migrare 150.000 PC, mi sembra, all'utilizzo di LibreOffice, grazie al lavoro di quella che è una delle più importanti associazioni che si occupano di LibreOffice, cioè LibreItalia. Quindi, vedete, non è una cosa che si può dire, ma chi lo utilizzerà sarà il caso di utilizzarlo? Beh, sono organizzazioni grandissime, la stessa cosa è accaduta in Francia, per esempio, o in altri stati, anche i governi locali, insomma. Noi nel comune di Grosseto, per esempio, è da tantissimi anni che utilizziamo software libero sulla parte server, addirittura dalla fine degli anni 90 e da, diciamo, forse 2007, così, anche un po' prima abbiamo iniziato a passare al software libero anche sui client, ad esempio, io credo, mi sembra già dal 2008 è stata completata la migrazione a quei tempi OpenOffice, ora stiamo utilizzando sia OpenOffice che LibreOffice, così come a Firefox o Chromium e magari, ecco, ai programmi di posta, ma anche a tanti altri programmi che utilizziamo, ad esempio, una delle tematiche più importanti sia per il pubblico che per il privato, considerando tutte le normative attuali sulla digitalizzazione, è la conservazione documentale, ecco, anche lì, per esempio, utilizziamo uno dei programmi più diffusi al mondo per la conservazione documentale, che si chiama Alfresco e così via, ma appunto, come dicevamo prima, sui cellulari, tutti coloro che hanno Android utilizzano Linux, perché il kernel è proprio quello di Linux. Ora, ecco, vi volevamo far vedere anche due o tre cose che, ora, ho fatto vedere un po' appunto come si naviga, come so, il programma di grafica che utilizziamo, GIMP, per chi non l'ha mai visto, lo lancio una volta, volevamo fare una, ecco, un piccolo workshop, diciamo, su questi due giorni, non sa che tempi sono un po' brevi, quindi forse taglio un po' su questa cosa. Ecco, per chi non l'ha mai visto, appunto, voi che fate giornalisti, secondo me, può essere molto utile, è un programma GIMP di grafica, così come LibreOffice è un programma per scrivere, GIMP è un programma di grafica abbastanza semplice da utilizzare, perché ha utilizzato anche qualunque altro programma che riguarda dal fotoritocco alla creazione di immagini, distribuite appunto con licenza di software libero e anche gratuiti, quindi basta che andate sul sito, li scaricate e potete utilizzarli per tutti i sistemi operativi. Su Linux, su quasi tutte le versioni di Linux, è estremamente semplice, installarli perché c'è l'equivalente di quello che è l'app store, a seconda poi del tipo di cellulare che avete, si chiama in modo diverso, ma insomma il negozio delle app, dove scegliete l'app e la potete utilizzare. In quasi tutte le distribuzioni Linux c'è esattamente la stessa cosa, potete scegliere l'app da scaricare, in questo caso appunto è un programma, lo selezionate e lo installate, così l'abbiamo installato noi e funziona in questo modo estremamente semplice, se no per gli altri sistemi operativi potete andare sul sito, fate il download, lanciate l'eseguibile e procedete con l'installazione. Tanto proprio per chi non l'ha mai visto in funzione, Linux con qualche applicazione di software libero, volevamo far vedere giusto qualcosa per far rendere tutti conto che è una cosa abbastanza semplice, funziona al pari di tutti gli altri sistemi operativi, qui per esempio, se dobbiamo scrivere qualcosa, invece che scriverlo faccio un copia e colla di una parte di testo, facciamo prima, ok esattamente quello che fareste con le scorciature di tastiera o del mouse, la stessa cosa che fareste con un qualunque programma di videoscrittura, cioè non cambia niente, non è perché usate Linux, allora tutta l'esperienza che avete fatto finora con il mondo dei computer, va a zero e dovete ripartire da capo, anzi come vedete è tutto abbastanza semplice, non so quello che in genere si scrive un testo, ora insomma sono informatico, ma mi immagino che funzioni in questo modo, si prendono delle immagini, ecco potremmo prendere, avevo pensato, come abbiamo fatto noi nelle slide, il logo della manifestazione, vedere come per esempio, ecco potrei prendere questa immagine qui e volerla mettere nel mio articolo o in una foto dove voglio, ok la salvo, salvo l'immagine col nome, ok la salvo nella cartella scaricata, si chiama cropped testata digit1, ok una volta che avete salvato un'immagine dal web, che cosa fate con qualunque programma di grafica? Per aprirla come volete, o sfogliate le cartelle o la trascinate sul programma di grafica, esattamente uguale, faccio la stessa cosa, ok ho a disposizione tutta l'immagine, i colori si vedono un po' pazzati, tutta l'immagine che ho a disposizione, vi torna? È normale, penso che siete tutti giornalisti qui, mi immagino la maggior parte, è l'attività che fate normalmente credo per scrivere articoli, per esempio Gimp ha tutti i tool possibili e immaginabili che vi vengono in mente per fare il ritocco delle immagini, ad esempio mi interessa solo, solamente questa parte qui, la ritaglio, ok vedete tutto estremamente semplice, è chiaro, è semplice per chi lo sa usare, per chi l'ha usato qualche volta, però basta poco tempo, online si trovano tantissimi tutorial distribuiti con licenze libere per la parte di divulgazione di informazione che in genere sono le creative commons, ora non abbiamo tempo di parlarne, ma questo vuol dire che potete scaricarli e leggerli, ridistruirli liberamente, così come il software ha delle licenze libere per il mondo della cultura, della comunicazione eccetera, ci sono altre licenze che garantiscono esattamente gli stessi diritti, quello che si chiama il copyleft è invece il copyright, vuol dire che chi scrive o distribuisce un testo, un'opera di ingegno e di intelletto ritiene per sé qualche diritto e lascia tutti gli altri, ad esempio potrebbero chiedere che se la mia opera viene distribuita su un blog, su un sito o comunque su un cd, magari ecco debba essere citato l'autore, questa è una delle cose tipiche, quella della citazione dell'autore, ok? Tutto quello che vi serve, una cosa tipica che si fa con le immagini quando si mettono soprattutto sul web più che su un articolo scritto con programma di videoscrittura, può essere il fatto che ci fa comodo che l'immagine sia trasparente perché così si continua a vedere lo sfondo del sito, che fa tutte queste cose, basta che aggiungo il livello di trasparenza all'immagine, basta che abbiate usato una volta un programma di grafica e Gimp è molto simile insomma a quelli più potenti che ci sono, posso selezionare la parte che per esempio è bianco, quella che mi potrebbe dare noia, ritagliarla e vedete ottengo la parte trasparente così posso continuare, ora non è che voglio fare il lavoro di precisione ma insomma posso continuare a ritagliare l'immagine, la parte per chi non è pratico di programmi di grafica, i quadrettini grigi, chiari e scuri che vedete rappresentano la trasparenza cioè se questa immagine si mette sopra a uno sfondo ad esempio si vede lo sfondo invece della parte grigia chiara e grigia scura e così via. I programmi di grafica di solito che fanno, fanno una cosa particolare cioè utilizzano i livelli, vuol dire che è un po' come se noi disegnassimo su tanti fogli trasparenti, disegniamo su un foglio trasparente, sotto c'è un altro, ci riscriviamo in modo che non vada a modificare quella che è l'immagine che voglio modificare e lo stesso anche Gimp fa esattamente questa cosa, possiamo fare un giochino che si fa spesso tanto per farvelo vedere, poi mettiamo l'immagine sul LibreOffice e vediamo che abbiamo inserito un'immagine, posso aggiungere un nuovo livello e gli dico che lo voglio con sfondo trasparente. Aggiunto il nuovo livello, vedete in questa barra ho due livelli, questo è quello dove c'è la mia immagine, questo qui che ho selezionato, tra l'altro con questo occhio posso farlo comparire o scomparire e ho un livello sopra trasparente, come se avessi appunto il mio foglio con la scritta sopra un foglio trasparente dove posso continuare a scriverci, tra l'altro li posso spostare tra di loro i livelli, li posso mettere sopra la scritta e sotto quello trasparente. Un esempio di quello che si può fare con programma di grafica è questo, allora elimino tutte le selezioni che ho fatto fino ad ora e faccio una nuova selezione, faccio una nuova selezione e riseleziono tutto quello che è stato eliminato sullo sfondo, inverto la selezione, guardate carino, questa è una cosa tipica che si fa quando si ritoccano le scritte, le immagini, invertendo la selezione ora è selezione scritta ok? Allargo un pochino la selezione, la faccio un pochino più grossa, allargo allargo di un pixel, due pixel, posso provare, vediamo come viene con un pixel e ora ho una selezione un pochino più grande di quello che era la scritta, ho selezionato la scritta e l'ho fatta un pochino più grande. Faccio scomparire quello che è il mio livello con la scritta passo al foglio trasparente che ho sotto, prendo un bel secchiello di vernice con cui dipingo e ci coloro la scritta, ok? Faccio ricomparire il livello che c'è sopra e ora se vedete la scritta ha un leggero bordino bianco, poi facendolo con pazienza uno lo fa con un po' più di precisione magari due pixel, tre pixel. Ok, ho creato una scritta trasparente con un bordino bianco in modo che se la vada appiccicare su uno sfondo si vede abbastanza bene. Poi in genere l'altro ritocco che lì si dà è di fare un po' di sfumatura, ora io non sono stato applicarla in modo che non venga squadrettata ma venga con una leggera trasparenza. Che cosa faccio? Salvo l'immagine, anzi a questo punto la esporto, in un formato che voglio io, per esempio ora ho una trasparenza, quindi la esporto in un formato che è il PNG, che mantiene le trasparenze, il JPEG non le gestisce. E a questo punto il mio articolo, che magari parla di digit, quello che è successo oggi, abbiamo parlato di software libero, vi abbiamo annoiato parecchio e non ve ne importa niente, soprattutto a voi due con la mela morsicata. Allora, e poi inserisco l'immagine, ok? E' quello che succede, la posso inserire in un punto come in un altro, ecco, la posso inserire qua. Niente di trascendentale, non è che abbiamo fatto vedere chissà che, è un programma di grafico, è un programma per scrivere testi. La inseriamo, però insomma le cose che effettivamente sono, penso, quelle più utilizzate, insomma, oltre che andare sul web e controllare la posta. Allora, l'avevo salvata in una cartella scaricata, quella che si chiama PNG, l'ho messa qui e eccola qua. Ok? Poi la possiamo rendere un po' più piccola, metterla in mezzo al testo, insomma fare quello che vogliamo. L'utilizzo di due programmi, di solito anzi, col software libero la fortuna è che se nella città dove abitate c'è un gruppo di linuxiani, persone che si occupano di software libero e spesso utilizzano, organizzano dei piccoli incontri, dei seminari, dei workshop gratuiti per far vedere come funzionano queste cose, in poco tempo le utilizzate senza nessun problema. Poi volendo salviamo il documento e lo possiamo utilizzare per la prossima volta, mandarlo per il web, in genere al giunco gli le mando, ecco in questo modo un po' più organizzati. Però ecco tutto questo, niente di trascendentale, niente di particolare, per farvi vedere che è un sistema operativo dove le cose si fanno in modo semplice, basta prenderci un po' la mano e si utilizzano senza nessun problema. Visto questo, e il tempo infatti non è tantissimo, vi volevamo far vedere un'applicazione che secondo me è parecchio utile per i giornalisti, che ecco diciamo nasce o viene utilizzata principalmente su sistemi operativi liberi come Linux, poi in realtà c'è per tutti gli altri sistemi operativi. Avevo un po' più slide ma cercherò di tagliare un po' ecco per andare avanti più velocemente. Avevo due o tre slide, le passo velocemente perché sono carine, solo per capire il contesto in cui noi operiamo, perché probabilmente il contesto è la cosa più importante. Uno dei temi principali di digit, trasversale a tutti gli incontri, workshop eccetera, era quello della cultura digitale e ci hanno detto ma affrontate il vostro intervento proprio da questo punto di vista, da quello della cultura digitale. E noi è il tema di cui ci occupiamo costantemente, quindi lo facciamo più che volentieri. Ma dove, in che mondo viviamo? Non vi preoccupate, non è che vi voglio far togliere la vista, ora numeri che poi ci interessano sono più grossi. Su internet troviamo molte statistiche su chi usa internet, come viene usata, eccetera. E questo è internet live stats, fa vedere un po' di statistiche live ma anche dei restoconti fissati a un anno, il 2014, ora è l'ultimo di questo tipo di statistica. E fa vedere quanti utenti utilizzano internet nelle varie nazioni. Ora è una statistica che effettivamente, se si pensa al numero di utenti è chiaro che i paesi che hanno più popolazione avranno linea di massima più utenti, però possiamo organizzare la statistica in base alla percentuale di popolazione che utilizza internet rispetto alla popolazione totale. E qui se vedete questa è la prima pagina, vabbè i paesi magari con poca popolazione è facile che abbiano una percentuale molto alta, però c'è il Canada, l'Olanda, la Niemarca, l'Ulsemburgo, la Finlandia, tantissimi, Svezia, Andorra, scorriamo, siamo già alla seconda pagina, Hong Kong, Barbados, il Mali addirittura, la Martinica, continuiamo, Lituania, eccetera, eccetera, e vediamo che proprio dopo l'Azerbaijan c'è l'Italia dove è il 59,92%. Io e Luca abbiamo fatto un intervento simile poco tempo fa sulle statistiche, soprattutto applicate al turismo, infatti c'è anche una slide del turismo proprio anche con il viceministro che si occupa di questa cosa, infatti anche lui si disperava e diceva che stiamo cercando di migliorare questa posizione, però capite che parlare di cultura digitale e cercare di, noi parliamo soprattutto col software libero di etica applicata all'informatica, effettivamente non è semplice, già forse l'etica è un tema che si abbina a altre cose, non so, l'etica professionale, voi fate anche già all'interno di questi corsi dove prendete crediti per le varie cose, sull'etica sicuramente avete e così tutte le categorie professionali, poi nella vita si capisce bene quello che è l'etica. Nel software è più difficile, forse anzi magari prima che, per chi non segue l'ambiente del software libero, diciamo anche l'etica, il software, quindi probabilmente è una cosa che è un pochino particolare. Altri temi, le imprese, queste sono state pubblicate da poco su Repubblica, queste statistiche, la percentuale delle imprese attive nel commercio online, insomma l'Italia vedete non è messa abbastanza bene, queste sono le ultime uscite, sono quelle del 2003. Questo è un altro indice molto importante che fa vedere, vedete, un'unione tra quelle che sono la condività, le competenze digitali, attività online, integrazione di tecnologie digitali e la digitalizzazione della PA. Questo qui che è il colore rosso è il peggio, chiaramente più è verde e più vuol dire che siamo messi meglio in questa classifica. Nel turismo si vede ancora meglio questa cosa, per esempio queste sono delle statistiche che sono uscite da poco e fanno vedere la connettività che viene data dagli alberghi, vedete in Italia non è che interessa molto di dare connettività gratuita, insomma sembra, ora qui si legge un po' male, mi dispiace, con la luce. E invece vediamo che per esempio dalle statistiche le ricerche di connettività da parte di chi vuole un albergo, che vuole prendere una camera, eccetera, sono altissime, quindi siamo proprio veramente agli opposti. Queste sono statistiche che mi hanno dato degli amici del CNR, del registro IT, che sono un po' indicative e fanno vedere un tasso di penetrazione di internet all'interno della Toscana e delle varie province, ma vedete anche qui che ci sono delle province, insomma la Toscana è abbastanza avanti, è terza in Italia, poi la situazione toscana è particolare, vedete che, insomma, io che vivo a Grosseto, questa cosa non la vivo benissimo, non siamo messi molto bene. Quella linea laggiù, arancione rossa, è la media nazionale. Questa è per le persone fisiche e, insomma, una statistica, quando andiamo alla diffusione internet tra le imprese, la mia provincia è proprio quella più disastrata, però invece in Toscana ci sono province che se la cavano abbastanza bene, quindi dipende anche da che zona del territorio si opera. Ora, vado avanti, insomma, abbiamo iniziato più tardi, vado avanti velocemente, parlando che tutte queste cose che abbiamo visto finora influiscono pesantemente sulla cultura digitale e su come ci si muove sul territorio, quindi bisogna capire bene sia l'amministrazione pubblica, sia le agenzie di comunicazione, insomma, quelle che ci sono, quelle che riescono a lavorare, sia le aziende private che poi fanno uso dell'agenzia di comunicazione, dell'ufficio di stampa, ecco, quale strada si può intraprendere? Qualcuna noi ne proponiamo, non è effettivamente facile, bisogna cercare di farla questa informazione digitale, questa alfabetizzazione, anche perché vedete, personaggi importanti ne parlano molto e dicono non è per sempre, non è che una volta che siamo informati questo rimane per sempre, ok? I temi sono sempre più nuovi, soprattutto volevo citare fra queste cose l'internet delle cose, che è quello che ormai, diciamo oggi, è la cosa più diffusa, più importante e negli anni futuri diventerà ancora la cosa più importante che c'è nel campo di tutto l'ICT, cioè il fatto che ogni città, ogni zona della città sia connessa e abbia dei sensori per trasmettere dei dati. Questo poi porta il problema di quale abbiamo parlato e vogliamo parlare ora della privacy, delle persone, inteso non come termine tecnico della 196 del 2003, ok? Del codice in materia di protezione personali, anche quello sicuramente, però anche proprio come termine che usiamo normalmente nel linguaggio, insomma, le nostre abitudini, che cosa, come vengono trattate, se vengono trattate in modo che possano risalire a noi o comunque se vengono trattate in forma aggregata, in forma anonima, eccetera. Salto perché se no non ce la facciamo. E ecco questa è la cosa che volevamo mostrarvi, soprattutto applicata al software libero. Per esempio, se navighiamo su internet, se utilizziamo strumenti, soprattutto immagino voi giornalisti, certe volte vi capiterà, non so se qualcuno è andato all'estero, in zone particolari, ma potrebbe succedere insomma anche in Italia, dove naviga, le mail che manda, la messaggistica che utilizza, gli permette di avere quella che, appunto, fra virgolette chiamiamo privacy, cioè il fatto di rimanere anonimi, anche mi immagino per fare quello che è il giornalismo di inchiesta, per fare ricerche o per comunicare con la propria redazione. Ecco, uno strumento molto importante per fare questa cosa, che ci garantisce una parte di questa cosa, è Tor, ok? Il router è la cipolla. Bene, infatti il simbolo è la cipolla. C'è qualcuno di voi che ha sentito parlare di Tor? Ok, l'avete mai usato? Sì? Ok, ottimo. Allora, per chi non lo sa, è semplicemente, si fa per dire, perché a livello tecnico non è semplice, però spiegarlo è abbastanza semplice. Tor non è altro che un sistema per navigare che utilizza tantissimi nodi sparsi per il mondo. E il fatto che l'informazione vada tra questi nodi, per di più questa informazione è cifrata, cifrata a tanti livelli, per quello si chiama cipolla, perché cifriamo a tanti livelli le informazioni, ogni nodo ha le informazioni solamente per decifrare il proprio strato di cipolla, finché l'informazione non arriva al destinatario. Ecco, questo ci permette di avere in parte una anonimità nella nostra navigazione, nelle nostre ricerche. Ora vado veloce perché poi Luca vi farà vedere un'applicazione pratica di Tor, si naviga un attimo e vediamo che è abbastanza semplice sia installarlo che configurarlo che utilizzarlo. Il problema qual è? Il problema è che quando siete su internet tutti vi tracciano, vi traccia il vostro provider di accesso internet, se siete nella rete aziendale vi traccia l'azienda. Ora noi siamo onessi con Access Point, quando si fanno queste prove probabilmente la polizia postale ci arresterà. Più di più ci sono gli attacchi, per esempio basta che un informatico si metta nel mezzo tra chi invia dati, chi riceve i dati, l'attacco tipico che si chiama man in the middle, proprio perché è nel mezzo tra le due persone che comunicano e con lo stesso può rubare i vostri dati. Quindi, fra l'altro, qui ho citato Calamari e poi ho visto che è in un'altra, non so se oggi o domani è qui a parlare, e lui sostiene nella rete di oggi la privacy è massacrata e Tor è uno dei modi per riuscire in parte a risolvere questo problema, anche se il problema più grosso spesso siamo noi utenti, che anche distrattamente, certe volte per mancanza proprio di tempo, di voglia, non stiamo così attenti a quello che può succedere. Salto tutte queste lecitazioni. Fra l'altro, ora Luca vi farà vedere questa cosa, che se navighiamo con Tor, cioè se non navighiamo con Tor possiamo sapere che siamo tracciati, non siamo anonimi, se invece abbiamo gli strumenti adatti, a questo punto ci viene detto guarda sei anonimo e quindi alcuni dei tuoi dati possono non essere tracciati. Come funziona? Ve l'ho spiegato, vi faccio vedere solo un disegnino che lo riassume. Noi siamo Alice, quello lassù è un esempio tratto da molti siti americani che spesso utilizzano Alice, Bob, eccetera, perché iniziano con la A, con la B, quindi se noi vogliamo aprire una connessione dal nostro computer ci colleghiamo alla rete di Tor, conosciamo i nodi e poi attraverso connessioni cifrate la nostra comunicazione arriva al destinatario. Se facciamo un nuovo tipo di comunicazione, vogliamo andare su un altro sito, comunicare ad un'altra persona, cambiano sia i nodi da quali passiamo chiaramente le cifrature e la destinazione. Quindi questo è in pratica il funzionamento di questa rete. Vado, cioè perché comunque non volevo scendere nei dettagli tecnici, poi su internet si trova tantissimo materiale tecnico, per di più in fondo alle slide ho lasciato tutti i link da cui ho tratto queste informazioni, le immagini che ho messo nelle slide, eccetera, quindi volendo potete approfondire e sono spiegate molto molto bene. Per cosa la possiamo utilizzare per esempio nell'occasione di oggi? Proprio per quello che si diceva prima, per condividere informazioni sulla rete pubblica o per leggere informazioni sulla rete pubblica senza compromettere la propria privacy, eventualmente senza farsi raggiungere, senza far sapere che siamo noi. Possiamo anche connetterci a dei tipi di risorse, pensate a Wikileaks, insomma a queste cose qui, che non sono raggiungibili senza questo tipo di rete. Luca parlerà del deep web, cioè tutta quella parte di internet che senza utilizzare questo tipo di strumenti non possiamo raggiungere. Non è che andiamo su Google, ci scriviamo un argomento e troviamo tutto di quell'argomento, no, troviamo quello che è visibile a chi non utilizza strumenti di questo tipo. Il resto per navigarci, per utilizzarlo, dobbiamo utilizzare strumenti di questo tipo. E così potete pubblicare siti che sono solo raggiungibili in questo modo o che non possono arrivare a voi che li avete pubblicati. Spesso le ONG li utilizzano. Vi volevo far vedere, ecco, c'è anche un sito che si chiama Onion View, che fa vedere una mappa di tutti quelli che sono i nodi che vengono utilizzati dalla rete Tor. Questo è il mondo, poi ho fatto un dettaglio, per esempio questi sono i nodi negli Stati Uniti, ma in Europa sono veramente tantissimi. Questa è la Toscana, in Toscana non ce ne sono tanti, però già il fatto che ce n'è qualcuno, insomma, è significativo, vuol dire che qualcosa c'è. E poi non ci dimentichiamo che tutti questi nodi, non è che ci sono aziende che pagano del personale per metterli su, in realtà sono tutti nodi gestiti da volontari o da attivisti, chiamiamoli come vogliamo, che mettono a disposizione il loro PC, il loro software, perché il proprio computer faccia da nodo per la rete e quindi si possa fare tutta questa serie di connessioni criptate su più nodi possibili. Luca vi parlerà del Deep Web. Ecco, una cosa importante è che questa, non pensate che utilizzando Tor o strumenti simili possiamo risolvere tutti i problemi possibili di anonimato, perché non è così. Il nostro computer, a seconda del servizio che utilizziamo, trasmette tantissimi tipi di informazioni e Tor non le può bloccare tutte. Spesso vengono utilizzati altri strumenti che sono dei proxy, i proxy non sono altro che o strumenti software o software più hardware che si mettono di mezzo tra voi e poi la comunicazione che fate e possono avere tantissimi scopi. Uno tipico è quello anche qui dentro, la rete fisica, cioè qui, quella che vi ci connettete col cavo o col wifi, ha un proxy ma per tutt'altri motivi, per tracciare la vostra connessione, per controllare quello che state facendo, per bloccare alcune attività, certe volte vengono utilizzate per motivi di caching, eccetera. In questo caso invece ci sono dei proxy che fanno la stessa cosa ma vengono utilizzati per controllare la connessione e bloccare tutte quelle cose che potrebbero, tutte le informazioni che potrebbero passare dal vostro computer a altri computer in ascolto e dare la possibilità di capire chi siete. Ecco, se utilizzate insieme questi strumenti vi danno una buona garanzia di anonimato, anche se non è mai completamente certa questa cosa. Ora passo la parola a Luca, a questo punto vi fa vedere un esempio di utilizzo della rete Tor. Sì, prima di quello vorrevo, siccome spesso quando si fanno queste presentazioni lo sguardo che incontriamo è sempre quello delle persone, diciamo voi siete queste cose perché siete paranoici, matti, esaltati. Forse in parte è vero, però insomma. No, volevo farvi vedere un video, velocissimo, con il quale appunto introdurre anche poi tutto il resto, ma comunque faccio anche un po' la conclusione di quello che aveva detto Ludo. Ciao. 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 La nostra paranoia ha delle basi abbastanza solide, perché purtroppo spesso non è solo un discorso di Thor o di anonimato, ma è anche il nostro comportamento online che fornisce in maniera più o meno consapevole una quantità di informazioni nei nostri riguardi che poi, una volta collezionate e messe insieme, fanno quell'effetto lì. Ora comunque, mi siedo perché questa la devo fare da seduto, vi volevo parlare di una... Uso, perché abbiamo detto, noi comuni mortali usiamo Thor perché ci teniamo ai nostri dati personali, è già una risorgione sufficiente. Ma è chiaro che all'anonimato e alla poca tracciabilità di quello che succede ci tengono molte categorie di soggetti. E qui si entra nell'argomento Deep Web, che è quella parte di internet, come spiegava bene Ludo, che non è accessibile con gli strumenti tradizionali, ma che richiede appunto configurazioni particolari. Perché? Perché si vuole mettere chiaramente una barriera all'accesso. E una barriera all'accesso ha un campo piuttosto esteso. Le stime, perché purtroppo bisogna andare con le stime, dicono che quello che noi vediamo, che non è solo quello indicizzato da Google, è tutto quello che noi riusciamo a raggiungere, e circa il 45% del contenuto che c'è su internet. Il restante è nascosto, criptato. Questo contenuto lo possiamo accedere, dicevamo, solo attraverso strumenti che rendano anonimi e criptati. Thor è lo strumento principe, esiste un browser, che è il Thor Browser, che la rete Thor ci consente di accedere a questa parte. I link che sono, se riesco ad andare sul desktop, i link che sono sul deep web non sono il classico www per capirsi, ma sono fatti in un altro modo. Ora me ne sono segnati alcuni, anche per farvi vedere qualcosa, perché... E sono link fatti così. .onion, ovviamente, visto che Thor è una cipolla, non possono che essere .onion. Questi sono alcuni indirizzi che vorrei farvi vedere oggi, e sono indirizzi del deep web. Questi sono indirizzi che, lo vedete, sono fatti già in modo da non essere mnemonici, ma sono raggiungibili solo e esclusivamente avendo il link diretto. Sono link che cambiano continuamente. Il motivo per cui mi sono fatto il documento è questo, fondamentalmente, perché nei giorni scorsi mi sono guardato tutti gli indirizzi che vi avevo accumulato, l'ho trovato che il 70% non esistevano più, quelli che funzionano me li sono messi in un documento, almeno hai visto di farlo davanti a voi, se no? Ci si sta un giorno. Allora, esistono anche delle collezioni, diciamo, di indirizzi, ma... Sì, aspetta, prendo questo, devo avere le mani libere per fare un po' di copia in colla. Allora, proviamo, per esempio, il primo. Questo è banalmente, vedete, con tutti gli reindirizzamenti che deve fare Tor, la velocità è logicamente più ridotta, perché ora sto facendo tutto il giro dei nodi, come aveva fatto vedere bene Ludo prima. Questo è The Hidden Wiki, che è fondamentalmente una sorta di Wikipedia, però con tutti i link principali del deep web. Ce ne sono, vedete, una marea, divisi in categorie. Ora io non mi prendo questi link, ma vado direttamente ad alcuni link che mi sono salvato. questo è un esempio classico di un sito del deep web, dove io posso assoldare degli hacker per fare delle cose che mi interessano. qui lo dice proprio. Dice, cosa si può fare? Ma si può fare dei bot, dei DDoS, DDoS è il Distributed Denial of Service, ovvero io assoldo degli hacker che hanno una rete di computer in giro per il mondo, che attivano su mia richiesta, sparo, continuo le richieste a un sito finché non lo mando in crash. Quando vedete Facebook giù o Yahoo giù, a volte è un problema tecnico, a volte sono attacchi portati col metodo di DDoS. Appunto, distribuito, milioni di computer che si collegano in contemporanea a un server lo mandano in overload, e quindi lo rendono inaccessibile per tutto il resto del mondo. Phishing, lo sapete, sono le mail che vengono mandate fingendosi una banca, le poste, e quindi catturano dati personali attraverso la convinzione dell'utente di andare sul sito della propria banca e mettere l'username e password, piuttosto che la mail o quello che è. E questo è, infatti c'è anche il listino prezzi, se volete, un'email o un account Facebook costa 200 euro, o meglio ancora, 0,931 bitcoin. Sapete tutti cos'è il bitcoin? Bitcoin è una moneta virtuale anonima, e criptata. Io posso, con vari gateway, convertire la moneta euro-dollari o quello che è in bitcoin, viene fatto un portafoglio digitale, la moneta è assolutamente anonima, per cui le transazioni in bitcoin non sono tracciate in nessun modo. Quindi, ora lo vedrete spesso, sul deep web si paga quasi esclusivamente in bitcoin, in modo che non sia tracciato in nessun modo chi riscuota questi soldi né chi paga. Quindi, con 0,931 bitcoin, il bitcoin ha una fluttuazione come tutte le valute, queste sono le fluttuazioni attuali, 0,931 bitcoin posso avere un attacco a un'email o a un account Facebook, se invece voglio qualcosa di più serio, rovinare una persona, spionaggio, attacco a un sito web, 2,328 bitcoin o 500 euro. Vediamo qualcos'altro. Ok, questo è qualcosa invece di molto più tradizionale. Qui si comprano telefonini, chiaramente questo serve negli stati che non hanno il libero commercio di cellulari sbloccati. Questi sono cellulari sbloccati, che possono essere usati per noi, sono normali, ma in molti stati è impossibile comprarli, da qui è possibile comprarli. Considerate che è una cosa che fa Tor, e per la quale si usa Tor, pensate se voi aveste un informatore in Cina, piuttosto che in Iran o in Siria, o usa Tor o con voi in Cicomunica, perché tutti i principali servizi sono bloccati. Questo invece è un altro esempio di Deep Web, 100 account PayPal, 100 account eBay, 100 carte di credito con codice CVV2, che è quello che avete, il codice di controllo esterno, anche qui prezzi popolari. Addirittura, come vedete, c'è una garanzia, dice se più del 20% di quello che vediamo non funziona, ve lo cambiamo, in modo che voi abbiate sempre delle carte di credito funzionanti, o PayPal o quello che è. Per chi se lo chiedesse, sì, la maggior parte di questi si sono delle truffe. Per chi se lo chiedesse, sì, la stragrande maggioranza di questi si sono delle truffe. Cioè io pago e non riceverò un bel niente. Per questo, ora questo non ve lo faccio vedere, perché banalmente l'ho fatto da casa e non volevo inguaiarmi, ci sono delle comunità, di forum fondamentalmente, nelle quali ci si iscrive e lì si scambiano, diciamo, i link buoni da quelli meno buoni. Quelli che si trovano, per capirsi, col wiki che ho fatto vedere prima, 9 su 10 sono scam, quindi buttate dei bitcoin e non avete niente in cambio. Ecco perché è fondamentale quando si va nel deep web introdursi nella community. Ecco, questo è un altro bel sitarello dove posso comprare la bubblegum che vedete qui assù, posso comprare un bel tocco appena arrivato dal Marocco, insomma 50 grammi, 200 euro, non è nemmeno un prezzo disonesto. Chiaramente, anche qui, qui lo scam, cioè la truffa si vede facile perché se chiede gli euro, io non mi fiderei, l'euro si traccia in qualche modo, no? Un passaporto inglese può servire? 2000 sterline ci si toglie la paura. Se poi preferite gli Stati Uniti, con 5.900 dollari vi danno passaporto, numero di sicurezza sociale, patente e certificato di nascita. fra l'altro con la possibilità di mettere il proprio nome o anche un nome di fantasia, così ci si fa anche una bella identità nuova che avere la discorta fa sempre comodo. A volte ci sono anche semplicemente libri da scaricare, quindi il deep web non è solo, però insomma, questo è già un bel cataloghetto, c'è un po' di robetta. Questo, diciamo, è la cosa più tranquilla di quelle che vi faccio vedere. questo è morto da ieri a oggi. Questo, per dirvi, non vi ho detto una balla, è veramente una realtà molto dinamica quella del deep web. E qui è fondamentale essere inseriti nelle community, perché io quel sito non lo troverò mai più. Se poi vi preferite i soldi fasulli, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Qui ci sono i dollari. Come vedete, viene sempre specificato il tipo di test che passa alla banconota. Questo è importantissimo per almeno due buoni motivi. Il primo, non volete mai spacciare banconote false in un contesto che ve le rileva. Il secondo è che cambia il prezzo. Ora questo lo vediamo anche più avanti. il ratio, cioè la percentuale del valore facciale cambia in base a quanto è affidabile la banconota. In questo caso 1250 dollari il valore facciale, 600 dollari il valore d'acquisto, quindi siamo intorno poco meno del 50%. Non è la miglior banconota possibile. Ora vediamo se mi funziona quest'altro link. Ora non so se è questo o un altro, ma ce n'è un altro che vi dà ancora meglio l'idea di quello che vi sto dicendo. No, questo è un altro di elettronica, come vedete c'è un po' di tutto. Capite bene perché questa roba non può stare sul web ufficiale. Credo sia di facile comprensione. serve qualche arma? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Chiaramente non vi aspettate di trovare un seriale su questi oggetti. questo non c'è manco bisogno di leggerlo, lo vedete da voi. Psicotropi eccetera, 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 ecco questo. passa i raggi ultravioletti, passa il test della penna, funziona con le macchinette automatiche. I prezzi ci sono in euro ma sono prezzi indicativi perché dice chiaramente il pagamento è solo in bitcoin. Quella stringa incomprensibile lì è il portafogli, l'electronic wallet dei bitcoin intestato a chissà chi che si prende il pagamento che noi gli mandiamo. Come in ogni basso fondo che si rispetti c'è anche questo che ce l'aspettavamo che ci fosse ovvero le scommesse truccate. Questo è un servizio a cui ci si può abbonare e che ci manda a seconda naturalmente del tipo di abbonamento che facciamo le partite truccate garantite al 100% per cui possiamo avere accesso a queste partite truccate e scommetterci un bel po' di soldi. non ci abbiamo mai provato però se qualcuno di voi ci vuole provare si funziona. Ok siamo quasi in fondo poi ok volevo farvi vedere anche questi ultimi questo è un altro sito specializzato proprio negli account PayPal quanti di voi hanno un account PayPal? Ecco questi sono i caratteri finali di quel degli account PayPal di alcuni account PayPal che hanno in vendita con i soldi che ci sono dentro e la possibilità di comprarli direttamente. C'è che ci troviamo con noi? Sì probabilmente. Allora se è una cosa carina vai su un tipo what's my piece da qui e dal browser Sì ora aspetta lo facciamo come ultima cosa ormai finisco ormai questi tre o quattro link che ho alla fine. questo è il sito più brutto ho scelto quello meno brutto ok? Ma per farvi capire cosa si nasconde nel deep web non lo commento avete già capito da soli ma c'è tanta 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 di questa roba io ho scelto il meno brutto ok? Perché chiaramente dietro al discorso della connessione non è criptata si nascondono quelle persone qui ci sono altri wiki questo è in russo con altri link di deep web e questo invece è un altro sito che si addirittura è nella rete internet normale dove ci sono altre racconti altre raccolte di link eccolo qua chiaramente più il link è scoperto meno valido è il sito che c'è dietro ora questo servizio com? org? org mi sembra questo servizio da l'ip della macchina da cui navighiamo se io vado a aprire chrome e faccio la stessa cosa questo è il vero indirizzo IP che noi abbiamo quello della rete su cui siamo ora in questo caso è la rete cellulare quindi è un indirizzo che comincia per 5 anche le informazioni vedete sull'user agent sul sistema operativo che sono corrette sono quelli che sono il nostro sistema se vado qua io vedo che ho un indirizzo 158 che chissà di dove è infatti c'è scritto sotto il torre exit node dell'università la penna university e mi dice che ho un firefox su windows nt cosa che ovviamente non è ci fa vedere anche il percorso che stiamo facendo esatto quello è il percorso che abbiamo fatto con le nostre informazioni quindi questa dimostrazione che la rete store è una roba seria insomma effettivamente protegge come diceva giustamente Ludo non protegge al 100% ma comunque garantisce un buon livello considerate che quelle transazioni che abbiamo visto su quei siti del deep web passano fondamentalmente da tre cose fondamentali l'armamentario torre che è la base di partenza il bitcoin che è una moneta anonima e se andate sul deep web una delle cose che troverete di più sono gli indirizzi email che potete fare su email anonime e criptate quindi tutto quello che è dall'ingresso al pagamento e comprese le comunicazioni che stanno in mezzo per capirsi nessuno scriverà con un account gmail ma scrivono tutti con account criptate e anonimi che stanno anche loro sul deep web questo appunto è un aspetto credo importante perché è effettivamente una fetta maggioritaria dell'attività che accade su internet ma che noi non vediamo Sì ora noi ci siamo divertiti a farvi vedere insomma anche questi siti ma pensate agli utilizzi importanti nei paesi dove ci sono regimi totalitari dove c'è la censura o l'abbiamo visto in Africa a Medio Oriente dove c'è guerra dove non si potrebbe comunicare in altro modo dove le informazioni non potrebbero essere comunicate al mondo questi sono gli strumenti che hanno fatto conoscere al mondo tante situazioni che probabilmente sarebbero venute fuori decine di anni dopo se no comunque modificate completamente da certi tipi di regimi o di tv di stato di sistemi di informazione di stato infatti due siti che sono stabilmente con link onion sul deep web che le usano diciamo come backup perché non sanno come finiranno sono Pirate Bay e sono Wikileaks sono due siti che hanno il loro link punto onion perché qualunque cosa succeda diciamo in superficie loro un modo di andare avanti ce l'hanno hanno sempre un backup nella rete nascosta dove è molto più difficile bannare tanto il metodo lo sapete come funziona si banna l'IP sul DNS per cui io digito piratebay.org non ci arrivo arrivederci e grazie essendo questi link onion dove non c'è un IP dietro che possa bannare ovviamente non li blocco quindi loro hanno sempre la possibilità di stare online in qualche modo se non ha niente da aggiungere faccio vedere allora l'unica cosa che mi piaceva farvi vedere è un link un video di 10 secondi 20 un minuto al massimo e cioè il fatto che noi siamo del comune di Grosseto io sono anche l'assessore all'informatizzazione peraltro il nostro ufficio stampa del comune di Grosseto ha seguito diciamo i nostri deliri i nostri dettami e usa effettivamente Linux sulle macchine dell'ufficio stampo quindi lavora effettivamente con Linux allora abbiamo non so quale dei due ok abbiamo ora ve le faccio vedere solo uno abbiamo fatto 10 secondi un minuto di intervista ai nostri colleghi ve ne faccio vedere uno che appunto raccontano che effettivamente è vero che usano queste tecnologie prima di iniziare a lavorare per il comune di Grosseto avevo seguito un corso di introduzione a Linux organizzato proprio dal comune di Grosseto un corso gratuito di introduzione e di conoscenza al nuovo sistema operativo era stato davvero utile per me tanto che da quel momento ho cominciato a utilizzare Linux anche a casa anche nella vita quotidiana quando poi sono arrivato a lavorare al comune di Grosseto all'ufficio stampa quindi è stato come dire un incontro naturale quello di ripartire con questo lavoro avevo ormai cominciato ad utilizzare Linux abitualmente e grazie al fatto che all'interno del comune di Grosseto lavorano una serie di professionisti che si occupano e sono specializzati proprio in Linux è stato naturale passare ad utilizzare questo sistema anche all'interno degli uffici del comune del nostro ufficio stampa questo perché ovviamente essendoci da un lato le conoscenze funzionali di qualcuno che già aveva cominciato ad utilizzare come me era più semplice ma è fondamentale credo che sia stato fondamentale anche il fatto che ci fosse un servizio elaborazione dei dati un servizio del comune con dei professionisti esperti perché naturalmente nelle esigenze poi della quotidianità e soprattutto nel passaggio da un sistema operativo ad un altro anche nell'attività professionale il loro supporto è stato sicuramente utile quindi penso che si sia trattato di un'esperienza importante anzi credo che dovrebbe essere stesa a tanti altri uffici almeno a quelli che non hanno dei software particolari come l'anagrafico eccetera ma che possono comunque utilizzare Linux ogni giorno questo tra l'altro fa risparmiare agli enti anche risorse importanti per quanto riguarda le licenze e devo dire che i programmi che io utilizzo sono assolutamente equivalenti a quelli di altri sistemi operativi proprietari per cui la mia esperienza è estremamente positiva ok quindi niente ora poi potremmo anche dire che se vi date il Windows o un metro 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 tutte le risorse del vostro computer sono presi dagli antitutto inutile dirvi che su Linux non esiste il concetto di antivirus non esiste niente di tutto ciò perché è un sistema che è fatto proprio per essere robusto e quindi questa roba non se la prende quindi oltre al fatto che avete diciamo tutto quello che ci siamo detti finora c'è anche il fatto che non dovete stare in tre secondi a dire va piano va lento c'è un monte di troiai devo ristallare tutto perché effettivamente non dà nemmeno di questi problemi io mi fermo qua siamo arrivati all'ora se avete qualche domanda la rispondiamo velocemente volentieri altrimenti ma certo guarda ti diamo il microfono qui si dovrebbe sentire abbastanza no vorrei soltanto precisare che sia io che lui che siamo due pelisti non abbiamo antivirus da quando abbiamo comprato un mac questo per completezza di informazione hai ragione ma per un motivo perché come ben sai da OSX in poi è stata cambiata la base di Apple e ora è derivata da BSD BSD che è comunque una derivata Unix effettivamente ha delle caratteristiche di robustezza completamente diverse rispetto a quelle che aveva Mac OS fino alla 9 quindi sì confermo quello che stai dicendo grazie per averci sopportato per quasi due ore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti